Non esiste il caso del mondo Qua sono un minuto solo di presentazioni Sono passato in quattro ore Non sono mai passato Così piano? Si sembra veloce Quando hai fatto 51 Qua è una volta che sei fassato il filo Credo che la Sara è impressionante Grazie a tutti. L'emba è scopirata? L'emba, ferma.